Insomma, se invece che in un dramma fossimo in una commedia sofisticata, a questo punto il protagonista direbbe all'antagonista Professore, son venuto a chiederle la mano di sua moglie Ha finito? Si, anzi no, aggiungo che, guardi, lei di fronte a sé ha un uomo disposto a tutto, eh Anche a prendersi la bestia? Prego Quell'affare lì, è il cane di Donatella, gli è molto affezionata Si chiama Birillo Ma certo che vi prendo Birillo Guardi che mangia un chilo di macinato al giorno, uno e mezzo di riso E tutte le mattine bisogna portarla a urinare alle cinque, se non in onda la casa Ma cosa vuole che mi importi di questi dettagli? Parliamo di cose serie invece, importanti Parliamo di cose serie, che è un po' di cose 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 che è un po'.